Malumori all'interno del centro-destra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha infatti bloccato la riforma che introdurrebbe il presidenzialismo e quindi l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. È stato così approvato un emendamento soppressivo del primo articolo del testo, proposto da Fratelli d'Italia. I voti a favore dell'emendamento sono stati 21, M5 SPD, le UE alternativa, mentre i contrari sono stati 19 con gli esponenti del centro-destra unito, mentre Italia viva si è astenuta. Determinanti per quella che è a tutti gli effetti una bocciatura della proposta di riforma costituzionale due assenze. Chi? Anna Grazia Calabria di Forza Italia e Cristian Invernizzi della Lega. I due voti avrebbero determinato il pareggio e quindi la mancata approvazione dell'emendamento, ma dalla Lega respingono le accuse e spiegano che Invernizzi era in missione. Giustificazioni che non bastano a Giorgia Meloni. Ricordate quando, durante le scorse elezioni del Presidente della Repubblica, la maggior parte degli esponenti politici chiedeva che fossero direttamente gli italiani a scegliere il capo dello Stato? Tuona su Facebook la leader di AFDI, tutte parole al vento. Oggi, in Commissione ai Affari Costituzionali, non è passata la proposta di Fratelli d'Italia sul presidenzialismo. Ancora una volta altri hanno scelto i giochi di palazzo. E ancora, il testo non è passato per due voti Lega-Fai. Ora io non so se questa proposta non sia passata per superficialità di alcuni o per una scelta politica. So che se i partiti hanno dei parlamentari che non possono andare quel giorno in Commissione, li possono tranquillamente sostituire. A farle ecco Emanuele Prisco, capogruppo del partito, ci sono state due assenze in Commissione, una di Forza Italia e una della Lega, altrimenti la riforma sul presidenzialismo sarebbe andata avanti. Ne prendiamo atto. Oltre a Matteo Salvini è intervenuto Silvio Berlusconi. Anche leader di Forza Italia si è difeso sostenendo che non c'è stata nessuna volontà di affossare la legge. Eppure la polemica non è destinata a finire qui. Grazie a tutti.